Ragazzi il mio algodentale è molto bello, lo faccio ogni anno E questo è il polo nord Ecco, arriva la mia slitta con l'arena Che bello Ciao a tutti, carciotti e benvenuti in questo nuovissimo video di Minecraft Come avrete letto dal titolo, oggi è un video un po' particolare Perché siamo come in one command, siamo con i command block, con i comandi dei command block Ma faremo una cosa figa Parleremo del Natale, ci trasformeremo in babbo Natale E tutto questo, compreso il regalare i regali E andare in giro con la slitta, con le renne Ettissimo Anche se, dire il vero, fare un video di Natale in un mondo con la giungla Forse sai che non è proprio l'ideale Ma aspetta, per entrare un po' nello spirito natalizio Facciamo una cosa Vi faccio vedere l'albero di Natale Sì Andiamo Ragazzi, il mio albero di Natale è molto bello Lo faccio ogni anno Eccolo qui No? Scherzavo? Scherzavo? Il mio albero di Natale è quello lì Ah Ora, è mattina presto Sono tipo le Cioè, ragazzi Sono quasi le nove Ah Insomma, l'albero di Natale è comunque fighissimo No? Guarda, c'è anche il presepino là sotto Chi l'ha fatto il presepino? Boh, non lo so E c'è l'albero Che è molto figo Rispetto agli anni scorsi ci sono meno palline queste qua Ci sono più tipo Dei dettagli Così, tipo la slitta Tipo Tipo Di ceramica questo Questo è il facevo io Minchia Ad elementari Tanto tempo fa E questo è il mio albero di Natale Quindi ora Che siamo entrati Nello spirito Natalizio Possiamo tornare In game Ok Siamo di nuovo in game Ora Siamo nello snapshot Snapshot 15v51b Minchia sono un sacco di snapshot Che non ho Probabilmente Recensito Magari ci facciamo Un video al riguardo Però Andiamo a inserire il comando Che troverete in descrizione di Mr.Garretto Che parla dal punto del Natale Ora vedrete della precisione di cosa sto parlando Mettiamo le impostazioni Always active Questa è una cosa nuova Che ho messo nello snapshot Che come un block Possono anche essere direttamente attivi Senza l'utilizzo Della redstone Signori Parte il tutto Per evocare Lo spirito natalizio Vero e proprio Abbiamo bisogno Di una android E di una redstone torch Quindi alla fine La redstone torch Comunque l'ho dovuta prendere Maledetta gobal block Pesso di merda Allora Androd Reston torch Signori e signori Otteniamo così Un bellissimo e simpaticissimo Polo Nord Otteniamo il Polo Nord Che poi nei film di Babbo Natale Si capisce bene cos'è il Polo Nord C'è tutto Collegato alla leggenda Di quel personaggio Della Columbia Del sud Sud colombiano Con i traffici di droga Tre cose Che ha fatto tutta una cosa Con Babbo Natale Si insomma Poi dice Ok andiamo avanti Piazziamo questo Armor Stand E questo è il Polo Nord E come vedete Lo spirito natalizio Pervade la mappa Insia ad arrivare Neve dappertutto Proprio le montagne Di neve Che compagno Di pupazzi di neve A caso Il signore e signori Sta per arrivare Sta per arrivare Da un momento all'altro Lei La Renna Manca davvero poco Come vedete Questo è tipo Quel macchinario Che c'è agli aeroporti Sta girando Sta lanciando Le cose Oddio Si sta levando Si sta ritraendo Ma no Aspetta Signor Gold Block Del Polo Nord Oh merda Non doveva andare così In teoria È scomparso Il Polo Nord Ecco Arriva la mia slitta Con l'Arenna Che poi non è un'Arenna È un cavallo Normalissimo Però insomma Che figata Un po' glitchosa Effettivamente Ok bisogna ammetterlo Non è che sia proprio Ma Però È comunque un cazzo Di slitta E la cosa migliore Del mondo Signore e signori È che ci posso salire Perché questo Non è solamente Un command block Per dare allo spirito Nata inizio La mappa No 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 Questo È un command block Per regalare Regali Perché mi devasti Tutta la neve Poi è un casino Raccoglierla Si Non sai che è un casino Che non mi piace Avere troppa neve Nell'inventario Che si fanno Tantissimi stack Boia Per futuro Che te l'ho appena detto Signora Renna Ma Dai su Guarda quanta neve c'è Mamma mia Però un po' di buonsenso Pure temi Che ce l'hai proprio su Pezzo di merda Che stronzo Andiamo avanti Perfetto Lo spirito natalizio Ha finalmente pervaso La mappa Siamo qui Con la nostra Renna Con il nostro Bellissimo e simpaticissimo Cosa Slitta Nostro Motoveicolo natalizio Come si fa ad utilizzare Ma è molto molto semplice Clicchiamo col destro All'interno E parte Signori e signori Ora partirà Parti Ecco qui che siamo partiti Allora Clicchiamo su switch view Così possiamo guardare La Renna Nella sua completa Maestosità Il fatto che stia trascinando Una slitta Come se fossero tre slitte diverse Ma lasciamo stare E possiamo tramite la chat Droppare un regalo Guarda Io clicco Guarda cosa fa Lancia Un regalo È lento come la merda Però lo lancia Vedi Adesso ne ho approfittato Per fare una bellissima foto Su Instagram Signore e signore Seguitemi su Instagram Top foto Every day Every night Every month Every year Every decade Devo essere sincero Non è bello Come me lo aspettassi No Per niente Ah ecco la prima casa Micchia ho Quattro ore Sei detto come la merda Renna Poi non provare a parlare Con il sindacato Se ti diminuisco Lo stipendio Di qua Di là Che l'ultima volta Io ho levato un paio di carote Dallo stipendio Micchia subito A chiamare il sindacato Le cose Sto Pez Medda Il vero problema è Come faccio A timare Perfettamente La causa del regalo Se l'aga così Eh Eh Poi me lo dici Grazie Io direi Esattamente Fammi fare un Count mentale Fammi fare il segnalino mentale Io direi Proprio 3 2 1 Ora Entra Non è entrato Vabbè Quello è un cammino piccolissimo Anche questo è un cammino piccolissimo Perché tutti i cammini Da uno per uno Mi vengono Ora No Dai Anche qui Troppo presto Che palle Non è manco L'ho preso L'ho preso Ma nel video del tizio Che ho fatto il comando Era più figo Che tipo Però ragazzi Non sai che me lo diciate Fa cagare Sto minigioco Dismount Che palle Mi posso sfuggire A Le lu Dove Dove Ok Sopra la macchina Ok Ok vedo la casa Forse esco ad arrivare Cosa sono quelle cose che si muovono Nel cielo Cazzo siamo Independence day Ok posso entrare qua dentro Ma è vuota Ci sono solo E tra l'altro non muore Nonostante lo sto colpendo con una spalla di diamante Come è bello Lo spirito natalizio E rompere le cose di natale Che poi anche verde come abito di natale Io lo sto rompendo Che è figo barabarabarabarabarabarabarababa колadab existence sai come? mi sa che è più divertente se lo facciamo così ma hai giusto un'idea non è che io sia, non lo so un piramide o cose di questo tipo assolutamente no però non lo so, mi ispira già meglio poi ho realizzato il fatto che come un bloc, che non possono esplodere pezzi di merda molto meglio molto meglio questo comando del merda e visto che c'è talmente che gara e ne facciamo un altro i command block in questo episodio ma c'è ancora la roba la dei regali ma non funziona ancora? no ok per fortuna un bel command block di quelli funzionanti fai always active mentre c'è questo bel comando e premi ok ok ora sta iniziando a spammare una super cosa anche questa macchinella è molto in tema natalizio un po' più roseo forse violaceo o qualcosa del genere ad esempio signore e signori abbiamo delle ricette se io butto un pot e quattordici cosi mi darà un christmas tree che posso evocare e avrò un bellissimo simpaticissimo albero di natalio che bello ora il pezzo forte di questa mod tra virgolette di questo comando è lo snow generator due blocchi di snow e un pistone dovrebbero darci un artificial snow generator come funziona? paraneve da tutte le parti? ma funziona? allora snow generator boom 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 dammi ciò che voglio ecco qui l'artificial snow generator che piazzerò e dovrebbe iniziare a spargere neve da tutte le parti funziona? funziona? siamo in una pianura dovrebbe nevicare nelle pianure no? per favore me lo fa nevicare? non nevica? pezzo di merda perchè non nevica? mettiamo più di uno perchè c'è un blocco di carbone? c'è un bel 3x3 di snow generator eh beh c'è una bella bufera di neve quello si così almeno sembra che stia nevicando come si deve ok poi una zucca e due blocchi di neve otteniamo lo snowman che dovrebbe essere uno snowman personalizzato suo che bello no almeno questo è figo dai almeno questo è molto figo anche se la posizione in cui va è sempre la stessa però è fighissimo questo c'è un'effettiva testa che non è poca roba bello si questo è bello bel esercito di snowman e passa la paura comunque signore e signori per questo video è tutto io vi ringrazio tantissimo per la visione vi ricordo di lasciare un mi piace se vi è piaciuto questo video iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto e seguimi su twitter, instagram, facebook io ovunque ve lo vogliate io vi saluto ciao turuturututti grazie